ed eccoci a una nuova opera lezione di anatomia del dottor tulp creazione dell'artista rembrandt protagonista del secolo d'oro olandese il dipinto rappresenta la seconda autopsia pubblica realizzata nel 1632 dell'anatomista nicolaes tulp per l'allora giovane rembrandt si trattò del primo ritratto di gruppo dato che oltre al dottor tulp sono presenti sette membri della gilla dei chirurghi di amsterdam al centro del dipinto realizzato a olio su tela vediamo il cadavere dissezionato di un comune criminale quanto alla composizione le teste di sei dei sette spettatori formano partendo da sinistra una freccia la cui punta termina con la mano destra del dottor tulp fulcro dell'azione del dipinto il settimo chirurgo invece tiene in mano l'elenco dei partecipanti e ha la funzione di collegare visivamente tulp agli altri personaggi rembrandt scelse di fissare il momento in cui il dottore disseziona l'avambraccio del cadavere per mostrarne la struttura muscolare questo è sicuramente il centro del dipinto che colpisce e cattura subito la nostra attenzione la resa anatomica del pittore però è imprecisa perché è più interessato all'intensità psicologica dei personaggi i volti ansiosi e indagatori dei sette spettatori sono straordinari per la loro diversità e animosità la luce è simile a quella utilizzata da caravaggio e dai caravaggeschi e la disposizione dei personaggi è molto teatrale oltre a tutto ciò emerge anche un messaggio morale che collega la dissezione alla criminalità e al peccato con il monito che la morte con la sua inesorabilità attende tutti quanti se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando